Allora, per chi non si ricorda o che comunque chi c'è stato, non c'è stato nelle passate live, molto semplicemente c'era una porta qua che non potevo aprire perché mi serviva questa chiave del scorpione, mi pare, che era qua da qualche parte. Allora, qua c'è la chiave del serpente che non ce l'ho ancora e devo trovarla, mi pare di aver visto, se non sono pazzo, e potrei essere tranquillamente pazzo, non mi offenderei se lo fossi, no, non è per di qua, dove cazzo sta? Io sono sicuro di averlo visto perché va bene che sono pazzo ma non fino a questo punto, ero sicuro che in questa casa ci fosse una stanza con la chiave del coso. È troppo forte il mio? Ok, ora dovreste sentirmi molto bene, ma molto molto bene. In questa casa non c'era una cosa, non c'era una chiave del... una chiave dello scorpione? Eh, del corpo? Ah, sì, 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 forse era su questo lato, era su questo lato, sì, 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 era per di qua, era per di qua, se non sbaglio. No, era quella del serpente. Come non mi si sente? What, mate? Come fate a non sentirmi? Ok, forse sono pazzo, forse sono decisamente pazzo. Ero davvero convinto, vi giuro, ero davvero convinto, che... che ci fosse una stanza in cui... che cazzo? Che mi passa per l'anticamera del cervello? Mezze misure per il microfono non le hai? Cioè, ora è troppo forte? Allora, aspetta, proviamo... forse era per di qua, non mi ricordo. Vi giuro, ho un ricordo di una stanza che dice, oh che cazzo, non posso entrarci perché mi serve una chiave e non era quella del serpente. Quella del serpente me la ricordo perché dico che Palle è pieno di chiavi col serpente, ma me ne ricordo appositamente una con la chiave del corvo. Eccola qua, eccola qua. Allora non sono del tutto scemo. Allora, usiamo gli psicostimolanti perché voglio vedere se ci sono oggetti che magari non ho visto. Esatto, lo sapevo che c'erano cartucce per il fucile, munizioni per la pistola. C'è sempre qualche oggetto che ti sfuggi, gli psicostimolanti sono stracomodi per trovarli tutti. Fluido chimico. Qua lo apriamo con la chiave del corvo. Fatchiea. Ah, che benessere. Allora, combustibile solido. Non ci sono abbastanza solo per questo oggetto, merda. Cartucce per il fucile. Cartucce in segnale, figo. Oh mio D, no. No, vabbè. Fluido chimico forte. Insomma, c'è un bel po' di roba qua dentro. Ok, ok. Se non sbaglio, per di qua. Ah, qua c'era di nuovo questo che era chiuso. Non mi piace il suono che... Ah, sì, era quello che faceva quel suono schifoso. Qua c'era polvere da sparo. Qua c'è una moneta antica che di nuovo non posso portarmi dietro. Oh, mannaggia, eh. Cioè, il tutto per tutto del non posso portarmi dietro questo, non posso portarmi dietro quello. Ah, sì, qua è dove cominciava lo schifo effettivo. Ora mi ricordo. Sì, 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 sì. Ok, mi ricordo. Allora, visto che... Oh, aspetta, c'ho una cassa qua dove posso scaricare tutta la roba. Ok, ok, ok. Allora, scarico qua la roba. Allora, scarico qua tutta la roba che c'ho in eccesso. Tipo il fluido chimico forte. Lo scarico dentro. Il combustibile solido lo scarico dentro. Questo lo scarico dentro insieme a questo. La chiave del corvo... La chiave dello scorpione mi sa che non mi serve, però me lo porto dietro comunque. Aspetta, posso ricaricare la pistola e almeno togliere uno... E aprire uno slot. Ok, buono. Ho degli altri proiettili qua dentro, magari. Pistola rotta, erbo, psicostimolanti, manovella. Pruido più... Non ho nient'altro, davvero. Wow, che tristezza. Non ho un cazzo, praticamente. Non mi serve, però. La chiave dello scorpione mi sa che non mi serve per un po', quindi posso anche metterlo via. Colpi per il fucile. Ecco, posso ricaricare il fucile, così che almeno mi libero gli slot anche di que... No, ricarica il fucile. Ok. Ho ricaricato il fucile. Avere un proiettile qua non ha senso, quindi posso tranquillamente metterlo giù. Ok, una cartuccia per il fucile. Bene, mi sono liberato un po' di slot, quindi posso andare di nuovo a liberarlo. Quello che c'era. Ricarica il fucile. Fuscile kebab? Fuscile kebab, sì. Allora. Uno per volta. C'erano... Una moneta antica qua. E questo è uno. Poi c'era della polvere da sparo, qua. Ok, devo prendere tutte le robe possibili di magica. Che cazzo era? Devo interagirci. Ah, era quella nota che avevo già letto. Allora. Oh, questa è la parte più importante. E lancia granate! Che fichissimo. Poi anche i proiettili esplosivi. Quella è la cosa più mindfuck. E c'era un'altra roba qua dietro. Fluido chimico forte. E penso sia tutto. Allora. Un lancia granate improvvisato può usare diversi tipi di cartucce. Ok. Non c'era altro, giusto, qua? Da quello che mi ricordo non c'era altro. Qua ho preso il fluido chimico. Ok, posso tornare per di là. Boh, sono abituato a Counter Strike. Quando giocavo a Counter Strike correvo col coltello in giro e ero abituato a quello. Solo per quello correvo col coltello. Cioè corro col coltello. Ma se mi dici che è così pericoloso... Allora. Ora che ho... Allora, entriamo qua dentro intanto. Se non ricordo... Allora, intanto la moneta antica la spostiamo. Polvere da sparo. Vediamo un attimo. Di che altro voglio capire i proiettili per... Munizioni potenziate da pistola. Questa è una soluzione medica forte. Cartucce incenniarie. Munizioni per il lancia granate. Sprigionano una lampata di fuoco nell'aria di impatto. Ok. Dovrei... Il fluido chimico forte ce l'ho. Ce l'ho già. Il combustibile solido ne ho uno. Che dite? Allora, me ne sposto uno. E ci faccio un altro di questi proiettili. Oh, minchia. Ne ho tre addirittura. Bestia puttana. Ok. Adesso ho tre monete. Ma con tre monete non posso farci una sega. Se non ricordo bene. Servono cinque qua. Per avere uno stabilizzatore. Cos'è? Tipo aumenta la velocità di ricarica o una roba del genere. Ce n'era un altro che ne servivano o no. Ah, un'altra moneta antica. Qua non l'avevo vista. Lol. Che questa qua è... Ah, sì. Questa è la pistola Magnum. Sì, sì, sì. Allora, mettiamo via la moneta antica. Visto che tanto non mi serve portarmela dietro. Io direi che la polvere da sparo possiamo piezzarcela tutta dentro. Che suona molto sporco, quello che ho appena detto. Allora, ci spostiamo un fluido chimico e un'erba. Così che mi faccio un'altra cura. Mi sto preparando, eh. Poi dopo vado a affrontare quell'affare che c'era nell'oltretomba. Più che altro... Scarto oggetto? No. Combino oggetto? No. Uso oggetto? No. Eh, vuol dire che devo togliere una delle armi? Porca droia, vuol dire che devo togliere una delle armi. Tutto bene, Mr. Jones? Ciao, caro. Porca droia. A cosa rinuncio? Come faccio a spostarlo? Che figo, comunque. Lancia fiamme? E quindi mettiamo via lancia fiamme? Però cazzo, mi sa che contro di lei potrebbe essere... Sposto il coltello. Come lo sposto? E' una cosa che sto cercando di capire da tipo quando è uscito questo gioco. Non so come spostare gli oggetti nel menu. Ah, ok. Basta fare proprio così, di ignoranza. K. Cioè, mega K. Ah, devi prima... Che cavolata! Devi prima cliccarli e poi devi... Che stronzata è? Devi prima cliccarli e poi devi metterli... Questa è abbastanza una stronzata, secondo me. Allora, aspetta. Posso caricare? Ok. Minchia putt... Già sky bella, cara. Benvenuto nella famiglia della bottiglia. Allora, allora. Andiamo a cacciare la strega. Strega. Non so come definirla, quindi la chiamo strega. Ok, andiamo. E' per di qua. Se non sbaglio. Ah no, per di qua è dove sono uscito. Seguendo la... Ah, sì, seguendo la tipa sono uscito per di qua. Devo andare in una di due direzioni. Che è o quella o quella. Madonna, che inquietudine. Odio le case. Andiamo qua. E' chiusa dall'altro lato. Perfetto, quindi devo andare dall'altro. Madonna, che spavento. Però prima c'era... Foto tesoro. Ok. Mi fanno sempre... Cioè, mi confondono sempre le foto tesoro. Io vado molto lento qua perché... Ho una terribile sensazione. Ho una terribile sensazione. Agente separatore. Un mustibile solido. Un po' d'erbetta. Vai, cazzo. Ah, serve una cosa. Serve un... Oh, non mi ricordo il nome. Andiamo a se c'è qualcos'altro. Qua sotto sembra di no. Sembra proprio di no. Perché ho una bruttissima sensazione. C'è qualcos'altro, magari, che mi sfugge. A volte non vedo. Ok, io non vedo nient'altro. What the fuck? Che cazzo era quel verso? Cioè... Cioè, la porta si è chiusa da sola. E poi è uscito il versetto del cazzo. Allora, io direi che chiudiamo. Che cazzo era quel suono? Oddio! Dove cazzo sta sta troia di merda? Che palle! Non voglio andar giù! È chiaro che devo scendere, ma da questo punto in poi, poi dovrò combatterla, immagino. Porca troia! Aumento il volume del gioco. È già al massimo il volume del gioco, lol. What? Nigga, what? Ho paura. Qualcuno mi aiuti? No! No, no, no. Perché non volevo cadere di sotto! Fuck! Si è buttato! Dov'è sto figlio di... Tappiglia di buona... Sono spaventato a morte, non potete neanche capire. Porca troia! La cosa è che sento i rumori. Non sembrano versi carini di uccellini, sembrano versi schifosi. Perché? Aiuto! Devo aprire la porta, vero? Ok, non si apre. Quella non si apre. Ok, quindi devo per forza andare in una parte scura! Allora... Allora, lei sembra essere la donna insetto, quindi lanciafiamme è forse la cosa più sensata. Fuck! Controlliamo ogni fottuto angolino. Uno storcere ti impedisce di andare avanti. Ok. Perché ho una sensazione... Allora, aspetta. Inventario. Che altro è perché non voglio sprecare munizioni proprio di una cassa. Ah, munizioni di pistola! Fantastico! Aspetta. Questa cosa serve? Agente separatore. Che cazzo serve ad agente separatore? Se io droppo l'erba, secondo voi... No, allora combina. Se io butto via l'erba... Che sti cazzi, onestamente... Me la butta per terra? Oh no, me la fa semplicemente scomparire. Ok, me la fa semplicemente scomparire, va bene. Accetto il limite fisico del gioco e me la ha fatto scomparire. Però almeno ho ricaricato un po' la pistola. Ok. Ok, con calma. Con calma. È chiusa dall'altro lato, ovviamente. Oddio santissimo! È tutto ricoperto di ragni. Vaffaculo ragni di merda. Ok. Almeno abbiamo liberato tutto dai ragni. Vaffaculo ragni di merda. Oh mio Dio, io ti voglio bene. Allora, aspetta. Intanto questo ricarichiamo. Questo è uno. Poi, direi... Cioè, tu proprio dritto a fare in culo le munizioni della pistola. Scartare l'oggetto. Sì. Cartucce per il fucile. Oh yes baby. Give me more, give me more. Oh! Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Siamo a posto, siamo a posto. Ok, ok. Quella finestra non mi convince. Allora, 5 euro che esce da quella finestra. 5 euro. Porca troia. Porca troia. Vaffanculo, puttana di merda. Lo sapevo. Vaffanculo. Vaffanculo. Porca troia. Che cazzo? Che cazzo vuol dire? What the fuck? Muori, puttana di merda. Prendi il cazzo. Ma che cazzo sei? What the fuck? Ma che problemi hai? What the fuck? Che cazzo è quella roba? Porca troia. Cosa devo fare? Vaffanculo. Muori, puttana di merda. Aio, aio, aio. Ok, ok, ok. Porca troia. Che schifo. Merda. Cosa cazzo devo fare? Cosa devo fare? Che cazzo. What the fuck? È un ragno. Ma che problemi hai, vecchia? Mi sa che è tipo cascata in un lube. E si è buggata. Oh, cazzo. Oh, merda. Che cosa inquietante. What the fuck? Cazzo è? Che problemi hai, vecchia? Te stai male? Ma porca troia. Quanto cazzo sei creepy. Muori, porco cane. Muori. Te e la tua vagina di merda impestata. Porco cane. No. Stammi lontano. Strozza. Merda. Oh, mio Dio. Sono senza munizioni. Porca troia. Vai via. Stammi lontano. Aio. Cazzo. Cazzo, 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 cazzo. Eh, minchia. Mi ha one-shotato quasi. Curati, pulisci di. Merda, sono caduto di sotto. Merda, sono caduto di sotto. Non so dove sono. Fuck, non so dove sono. Dove cazzo sono? Non ci sono mai stato qua. Dov'è? Dov'è cazzo è? Dov'è cazzo è? Dov'è sta troia? Dov'è cazzo è? Dov'è sta? Che cazzo è? Dove risalire? Oddio! Guarda là! È là! Ti vedo, stronza! Ah, ti pie... Aspetta, aspetta. Vuoi... Vuoi una dose speciale di cazzo? Puttana! Ti vedo, stronza. Prendi fuoco. Te la tua pagina di merda. Impestata. Porca troia, quanto cazzo è creepy! Ti vedo, stronza, dove vai, eh? Porca troia! Basta mostrarmi il culo! Dove cazzo è andata? È andata là sopra, ma non so dove. È finita? È finita, vero? Combustibile! Fuck yeah! Munizioni per pistola! Fuck yeah! Oh mio Dio! Allora, aspetta. Dove sta? Pistola. Ok, carica da massimo. Questo... Aspetta, ricarica il proiettile qua. Giusto in caso. Non si sa mai che se... Oddio! Cazzo! Stavo ricaricando, troia di merda! Oh cazzo. Vaffanculo. Fuck! Vattene via! Stavo ricaricando, troia di... Oh mio... Che cazzo era? What the fuck? What the fuck, vecchia? Non c'era nessun rumore! Io pensavo fosse finito il fight! Cazzarola! Ah, merda! Ok, ok, ok. Curati, curati, curati. Da bravo bimbo. Troia! Che cazzo sta adesso? Sta troia. Eccola, eccola, eccola. È là sopra, è là sopra. È là? È là? Finché so dov'è, non mi... Oddio, eccola! Eccola, eccola, eccola. Dove cazzo è adesso? Porco due! Dove cazzo sei? Tutta psicopatica di merda. Non sento dove... Non sento dov'è! È qua sopra, ma non so dove. Ok, almeno ho trovato un'altra soluzione medica. Nel caso mi attacca di nuovo, almeno posso sopravvivere. Dove cazzo stai? Cazzo di rani di merda! Cazzo! Cazzo! Dove sei? Oddio, eccola! Ok, 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 ok. Ti vedo, ti vedo, stronza di merda. Che cazzo sei? Dove cazzo sei? Porca troia, vaffanculo al subscribe. Grazie mille per il subscribe, però, caro, ti voglio bene. Sta troia. Muori, psicopatica di merda. Cazzo di malata di mente con i ragni nella vagina. Mannaggia a te. Cartucce per il fucile, non ci sono abbastanza solo per questo genere. Sta zitta! Smettila! Muori! Qual cazzo è? Cazzo è? Cazzo! Di cazzo di insetti di merda! Eh! È ora della pappa, stronza! No! Cazzo! Cazzo! Prendile! Prendile! Prendile le fucking cartucce per il fucile! Ricarica! Dov'è sta psicopatica di merda? Muori! Dei la tua vagina in pe... What the fuck! Mi sa che sono morto. Sì, sono morto. Potrei essere morto. Sì, sono morto. Ahahahahahah! Fuck! Forca troia! Che ansia è sto boss! Fucile è pronto. Questo è pronto. Ok. Dovremmo essere tutti pronti. Andiamo. Aspetta. Fucile... Fucile a pompa in mano. Aggressivo. Vieni fuori, puttana di merda. Ah, mi hai preso, stronza! Eh? Come ti piace il cazzo? Bello il fucile in bocca, eh? Stronza, puttana di merda. Allora, in teoria dovrei passare per... Sotto. Ok, questa immagino sia la fine della fase 1. No, 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 merda. Si è nascosta di sopra. Corri di sopra, corri di sopra. Che cazzo è? Minchia, squirtato. Porco 2. Dove stai, puttana? Ok, così a caso. WTF? Devo seguirla, quindi. Eh, ma che cazzo? E come reagisco a questo? Eh, ma che cazzo? Dove sei? Ma cazzo? Ma porca puttana, ma dai! Ma come cazzo counter una cosa leggera? Non hai niente da andare ora! Ma che cazzo sta in puttana? Ma che cazzo sta in puttana? Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oddio! Oddio, è morta? Oh! Sì! Muori! Vaffanculo! Puttana di merda! Porca troia! Porca puttana! Porca puttana! Sta puttana di merda! Oh, allora, ripuliamo sta casa prima perché non ci voglio mai più entrare. Porco 2! Mannaggia sti qua! E cartucce per il fucile! Ma guarda sti figli di puttana che minchia mettono le cartucce per il fucile! Io non ho parole! Io non ho fucking parole! Allora, così che ho fatto un po' di spazio per le cartucce per il fucile! Matunna! Munizioni per la pistola! Allora... Questa cos'è? Combustibile anche qua! Può che ci sia dell'erba e una cura! Qua! Poi! Qua! Puliamo proprio tutto! Prendiamo proprio ogni singola faccia di cosa! Perché sono morto di fame io! I morti di fame prendono tutto quello che capita a tiro! Ma qua c'erano i ragni e non ci sono più! Quindi posso prendere... Ah, unlucky! Non ho... Non ho slot! Allora... Beh, il fucile posso ricaricarlo! Però non libero tutti gli slot! Ok! Eh, vedete? Ha un altro fluido chimico qua! Porca droia! Sto rosicando! Che cazzo era? Combustibile anche qua! Ottimo! Ottimo! Porca droia! Eh, mi fa rosicare perdere sta roba! Cioè, non voglio tornare... Beh, oddio, non è che rosico perché la perdo! Rosico perché... Aspetta, io come esco da sta casa di merda? Stavo giusto pensando ora! Psicostimolanti! Ottimo! Non ho spazio! Ah! È scoperto di qua! Perché è morta lei, allora è morto! In questa struttura! Onesto, onesto! Capito! Cartuccia per il fucile! Ottimo! Ottimo! Great! Quindi... Ah! Che benessere! Oh! Sì, vado ad appoggiare un po' di roba e torno! Poi... Che spavento! Per un attimo ho pensato... Oddio, no! Adesso c'è una scena e si blocca per quello! Allora! Andiamo ad appoggiare un po' di roba! Allora, questa la appoggiamo tutta! Le munizioni per la pistola... Che altro non ha senso avere due pistole! È proprio quello il punto! Non ha assolutamente senso avere due pistole! Allora... Allora, appoggiamo questo! Appoggiamo anche questo! Appoggiamo anche questo! Proprio appoggiamo tutto anche questo! In effetti ci stavo pensando... Non ha senso avere due pistole, penso! Madonna! Che spavento! Questa sì, è la mia prima run! È pulita! Non so un cazzo di sto gioco! Nel senso, so... Non so, il mio di Resident Evil... Però... E-ball! Perché se no la gente mi picchia se lo dico male! E... Però per il resto, sì... Non... Non... È abbastanza tutto confuso! Allora... I psicostimolanti li prendo subito! Così che... Vediamo dove sta ogni singola fucking cosa in questa casa! Allora... Qua... No... Qui, perfetto! Prendilo! Prendilo! E prendilo! Non si sa mai che io abbia... E infatti ho perso qualcosa! Guarda! Allora... Non sembra esserci altro! Quindi, perfetto! Magnif... No, aspetta! Dove sto andando? Per di qua! E non mi sembra esserci altro, no? Quindi... Bene così! Bene così, cazzo! Oh! Guarda un po'! Fluido, chimico... Non me ne ero neanche accorto! Lol! Cazzo! Lol, what the fuck! Curtuccia per i cucini! Che benessere! Guarda roba! Integratori! Che cazzo sono integratori? Non li ho mai visti! Però buona sapersi! Non li avevo mai visti! Che cazzo? Lol! Guarda un po' te dove erano nascosti! Fluido, chimico! Ma scopo! E c'ho... C'ho qualcosa pieno di fluido, chimico! Sono praticamente una farm... Ah, perché utilizzano uno slot intero! Ok, allora... Andiamo a prendere il fluido, chimico... Stavo per dire... Cazzo sono una farmacia su due gambe e mi dici che non posso portare il fluido, chimico! Ok! Integratori! Non li ho mai visti, integratori! Pillole che influenzano il sistema nervoso! Non possono essere usate da sole! Devi prima trasformarle in medicine! In medicine! Ah! Li posso... Cartucce neurali! Munizioni per il lancio a granate! Contengono un potente veleno che attacca il sistema nervoso! Che figo! Il sangue è normale, perché sono leggermente ferito! Allora... Ehm... Io direi che mettiamo questo dentro! Questo dentro! Questo dentro! Ci riprendiamo... Le munizioni per la pistola! Le cartucce per il fucile! Il combustibile! Ok! E' una lanterna! Sto pensando... Poltele da sparo! Faccio altre munizioni per la pistola? Sì, facciamo un po' di munizioni per la pistola! Che merito! Cioè, giusto in caso, più caldo! Non ho munizioni... Allora... Non posso fare munizioni per il fucile, no, eh? Immagino di no! Sono inutili le cartucce neurali! Grazie per avermelo detto, almeno eviterò di sprecarle! Mi pare di avere un reagente forte! Adesso lo chiamano dentro! Dove sta? Dove sta? Fluido chimico forte! Allora... Fluido chimico forte! Esatto! Poi voglio vedere... No, questo... No, questo... Ok! Questa tiene solo sette colpi, però! È per quello che... Ok, ok, interessante! Allora... Mi serve per andare avanti... Dove stava? Ho già preso la lanterna! Sì, l'ho già preso la lanterna! Ok! 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 Allora, salviamo! Cazzarola! Vai così! Minchia, stiamo andando forte! Certo che metterò la live su YouTube, assolutamente! Non la metterò intera! La metterò in spezzoni da mezz'ora o un'ora! Sono ancora indeciso! Allora, devo andare per... Per di qua! Sì, per di qua! La chiave del fucking corvo! Serve la chiave del corvo? Ok, vado a prenderla! Ma lasciare giù il lanciagranate? Perché è comodo il lanciagranate? Però in effetti prima di un boss non ha molto... Cioè, se non c'è un boss non ha molto senso! Ora che mi ci hai fatto pensare! Allora, prendiamo anche la... Allora, ho visto che ci sono prendendo anche un pulito chimico e... E... Ah, la chiave del corvo! Visto che immagino che serva! Fa un culo! Spostiamo una polvere da spare e mi faccio un paio di munizioni per... Così che ho un po' più munizioni per la pistola! Vai! Sono pronto! Andiamo! Sì, ho battuto la vecchia! Incredibile, ma vero! Allora... Vi giuro, ho l'acidità di stomaco che sta aumentando... Sento lo stomaco che mi si sta stringendo... Sta andando in contrazione... Proprio perché sento che... Perché sento che sono nervoso! Scusate, ho appena sentito il pianoforte che ha smesso di suonare o sbaglio? Ok!